La donna delle pulizie non vuole parlare, il suo compito è quello di lavare le scale e cancellare le tracce di sangue lasciate da Sergio Zucca durante il suo disperato tentativo di fuga. Il giorno dopo il suo omicidio nel complesso di Via Rotonda Montiglio, nel quartiere della Pendolina, la vita sembra essere ripresa nella sua normalità. Gli operai impegnati nel cantiere del palazzo di fronte a quello dove è accaduto il fatto proseguono nel loro lavoro, qualche abitante si aggira fra i palazzi di questo popoloso quartiere dell'Oltremella. Ma la voglia di parlare è decisamente poca. Sgomento, stupore e anche rabbia sono i sentimenti che alleggiano fra le persone che vivono qui da tanti anni, in questi complessi edificati una quarantina d'anni fa. E proprio Franco Zucca, il padre omicida della vittima, qui viveva da allora. Milanese d'origine si era trasferito a Brescia per lavoro e qui aveva messo su famiglia con la moglie e tre figli. E' conosciuto da tutti come uomo mite e generoso. Lui ci faceva sempre la dichiarazione dei redditi, ci faceva dei piaceri, insomma, ecco. Era il marito di una signora che mi faceva la patinatrice a me, perciò ci siamo conosciuti da anni, insomma. Mai, 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 mai pensato che questo uomo arrivasse a questo perché era un uomo molto... l'ho conosciuto dall'ottanta in poi. Io dovevo andare giù a giocare la tombola con lui ieri. E' sempre giù con noi a giocare la tombola, con gli anziani. All'origine della tragedia i rapporti tesi con un figlio che da anni aveva dei problemi e che, da quando la moglie era mancata nel 2009, era diventato per il signor Franco ingestibile. I promigliori si c'erano perché il figlio era malato, doveva essere curato. Quando c'era la mamma, gli veniva dato un certo medicinale, glielo metteva nel caffè senza dirglielo, perché lui rifiutava di essere curato. Lo so, non lo so. Il figlio aveva problemi un po' di salute. So questo ne ha avuto. Una fragilità che non aveva permesso a Sergio di realizzarsi. Aveva lui il papà aiutato a mettere in piedi, per esempio, un negozio di pesce qui in fondo a Via Don Vender. Assolutamente non è stato capace. Dopo una settimana era già chiuso. Sergio ieri all'ora di pranzo è arrivato parcheggiando la sua bicicletta sotto casa del padre. Una volta slitto al quarto piano, la lite è sfociata nel sangue con la coltellata fatale. Sergio, padre di due figli, ma separato dalla moglie che vive con loro in un altro palazzo, era parso nervoso ad uno dei vicini. Gli ho proprio detto mai di problemi. Sì, sì, ma ne ho sempre di problemi in questo periodo qua.